musica 2 tempi da 25 2 tempi da 25 2 tempi da 25 vai 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 uuuu cazzo il numero è l'unico che non c'è il numero è l'unico che c'è senza numero beh tanto c'è scritto sn no? no c'è zero vabbè attacca 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 dove a girare? non c'è non c'è ma così dovrebbero dire sfido a quello che avete venuto di qualcosa se tutto questo è fatto si 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 bravo si 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 Allora bravi Allora bravi Allora bravi Allora bravi Allora bravi